Ciao ragazzi sono Stefano Castiello e benvenuti anche oggi in un nuovo video per chi mi segue e mi ha seguito soprattutto in questi giorni sa già benissimo perché c'è stato questo bel pump e soprattutto anche oggi ci sono notizie super importanti di cui parlare anche questa volta sono stato molto contento di aver fatto generare un ottimo profitto a molti miei iscritti perché spesso nei video vecchi mi veniva chiesto se era un buon momento per entrare o meno e io non sono un consulente finanziario ovviamente quindi non posso dirvelo con precisione però il prezzo era ai minimi e date le notizie positive che stavano uscendo poteva essere un buon momento per anticipare un pump e così è stato quindi tanta roba per Shiba Inu, stamattina abbiamo visto un più 30% quasi che è tantissimo e adesso nello specifico quindi voglio parlarvi di cosa sta accadendo e perché il prezzo ha subito questo rialzo improvviso prima di iniziare come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi perché è fondamentale se volete anticipare altri pump vi conviene iscrivervi al canale perché cerco sempre di aggiornarvi su quello che succede e quindi seguirmi ogni giorno è fondamentale se volete realmente trarre qualche profitto detto questo adesso davvero possiamo subito iniziare con queste notizie perché ci sono molte cose importanti di cui parlare e voglio anche fare un'analisi del prezzo perché è fondamentale in questo caso e dopo vi spiego il motivo nel momento in cui sto registrando questo video abbiamo un più 23% per Shiba Inu soprattutto anche la capitalizzazione di mercato ne ha risentito positivamente ieri eravamo sui 21 miliardi e oggi siamo sui 26 miliardi anche per quanto riguarda il volume scambiato nelle ultime 24 ore che è un dato molto molto importante abbiamo avuto un più 325% che è tanta roba questo qui è il grafico delle 24 ore abbiamo visto un bel pump verso l'altro per adesso il prezzo è sui 0.000050 però ovviamente facendo lo zoom out di un mese vediamo che siamo lontani dall'ultima AIG anche se il prezzo sta salendo e lo vediamo bene negli ultimi 7 giorni guardate qui quanta roba in questi giorni di lateralizzazione vi ho parlato spesso dei progetti che sono stati ufficializzati soprattutto per quanto riguarda il metaverso, il gioco che uscirà sullo smartphone che sia Android oppure iOS l'implementazione di SHIB per quanto riguarda i pagamenti su New Egg, su MC Theaters quindi ragazzi sono stati giorni molto importanti io vi ho anticipato che ci sarebbe stato un pump e infatti così è stato e per chi mi ha seguito e chi è entrato in questi giorni in cui il prezzo era molto più basso è riuscito ad approfittare di questo più 30% improvviso e sono davvero contento di portarvi questi video perché so che tante persone li guardano ogni video che ho creato su Shiba Inu ha raggiunto le 5000 visualizzazioni in 3-4 giorni quindi è tanta roba, sono contento in molti mi contattate, cerco di darvi consigli però che non sono consigli finanziari perché sappiamo benissimo che col mondo delle criptovalute è molto semplice perdere i soldi e per questo è importante investire solo quello che potete permettervi di perdere io credo molto nel progetto di Shiba Inu in questi ultimi mesi abbiamo visto molte notizie positive e ci saranno molti progetti importanti nei mesi successivi abbiamo visto soprattutto questo rialzo del prezzo perché è stato ufficializzato il listing di Shiba Inu su Kraken che per chi non lo sapesse Kraken è un exchange molto molto conosciuto che è nato nel lontano 2013 ragazzi quindi uno dei primi exchange e che ha avuto un successo incredibile è importante questo listing su Kraken per vari motivi sia perché ovviamente Kraken è conosciuto ma anche perché avendo un bacino di utenti molto molto vasto deve essere sicuro di quello che fa quindi sicuramente prima di permettere l'acquisto ai propri utenti si sono informati sulla sicurezza del token su quello che è il progetto e si sono fidati per questo motivo reputo questo listing su Kraken fondamentale e ne vedremo delle belle sicuramente e cosa ancora più importante ragazzi ieri sempre su Twitter la pagina ufficiale di Twitter ha pubblicato questo post cui ha taggato sia Kraken ha taggato New Egg per la collaborazione per quanto riguarda i pagamenti William Volk che è l'ex vicepresidente di Activision che sarà a capo del progetto per quanto riguarda il gioco di Shiba Inu in questo post sempre ha inserito quest'altro cane chissà a cosa alludono sono molto curioso davvero ogni giorno ci sono notizie super positive per Shiba Inu davvero le intenzioni che hanno con Shiba Inu sono incredibili è nato come scherzo ma adesso non lo è più perché la community è molto molto potente ci sono molte persone che credono in Shiba Inu per questo il progetto riceve sempre più importanza tanta roba per Shiba Inu in questo momento abbiamo visto un rialzo incredibile sono davvero contento perché ve l'ho anticipato ragazzi ve l'ho detto in questi giorni in molti mi dicevano sempre Stefano ci parli sempre di notizie super positive ma realmente quando è che vediamo il prezzo salire ed è successo come dico sempre nei miei video è fondamentale salire sui treni che stanno per partire mai su quelli che già sono partiti questo è davvero importante ovviamente per adesso non converrebbe acquistare Shiba Inu ma aspettare che il prezzo cali un poco però tanta roba davvero per chi mi ha ascoltato e per chi è entrato in Shiba Inu quando ho detto che ci sarebbe stato un rialzo a breve adesso voglio parlarvi un po' del prezzo perché ci sono dati molto importanti da considerare questi sono dati presi da Coinbase come prima cosa vediamo che il tempo di conservazione tipico è aumentato adesso siamo a 30 giorni e cosa altrettanto importante è che nelle ultime 24 ore per quanto riguarda l'attività di trading il 74% delle persone ha acquistato Shiba Inu e solo un 26% ovviamente l'ha venduto quindi notizia importante però adesso voglio parlarvi del Dead Wallet per chi non lo sapesse il Dead Wallet è un indirizzo che è stato creato da Vitalik Buterin che è il cofondatore di Ethereum e in questo indirizzo tutti i token che vengono inviati non escono più quindi sono persi questo indirizzo maggiormente avviene il Coinburn di Shiba Inu come già sappiamo il Coinburn è molto positivo perché vengono bruciati molti Shib e per questo poi Shib acquisisce più valore perché è più scarso e il prezzo aumenta detto in maniera molto molto semplice per farvelo capire però non è per niente un linguaggio tecnico in questo indirizzo possiamo vedere le diverse transazioni e vediamo che negli ultimi giorni Crypto.com ha bruciato molti Shib vediamo qui Crypto.com un giorno fa che ha bruciato degli Shib 3 giorni fa e tantissimi altri indirizzi che bruciano molti molti Shib anche Stephen Cooper che è un investitore molto conosciuto su Twitter ha creato degli eventi per bruciare Shib già ne ho parlato nei video scorsi perciò se non li hai visti quei video guardali perché sono super importanti per capire questi movimenti del prezzo detto questo ragazzi c'è stato anche un altro listing da parte di un altro exchange molto famoso in Sud America in America Latina che si chiama Mercato Bitcoin sempre Shittoshi Kusama che per chi non lo sapesse è uno sviluppatore di Shiba Inu ha pubblicato molti diciamo molte gif inerenti al fatto che il prezzo sta esplodendo qui vediamo Vegeta ragazzi tanta roba davvero soprattutto secondo il mio parere ne vedremo delle belle in futuro quindi se non siete iscritti al mio canale per guardare questi contenuti che sono altamente time sensitive iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati e la butto lì se volete lasciate anche un bel mi piace per supportarmi come si può ben capire quindi tutte queste notizie sono fondamentali per capire quello che sta accadendo ovviamente anche l'analisi del prezzo è importante e soprattutto molti SHIB vengono bruciati ogni giorno e anche questo è super importante perché già vi ho spiegato il motivo vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ah e soprattutto ragazzi per rimanere aggiornati 24 ore su 24 vi invito a seguirmi anche su Instagram mi trovate come Stefano Castiello ho la stessa foto che ho su YouTube qui in giallo ho anche pubblicato questo post per ringraziarvi dei 10.000 iscritti se vi va lasciate un mi piace un commento ditemi cosa ne pensate perché ne sarei molto contento e ripeto qui vi aggiorno sempre sui contenuti che pubblico su quello che faccio su quello che succede sul prezzo eccetera quindi è fondamentale seguirmi anche lì l'ultima cosa che vi dico sempre e poi vi lascio se siete alla ricerca di un exchange e siete neofiti nel mondo cripto Young Platform fa per voi c'è la possibilità di ricevere un bonus di 10 euro tramite il mio link che trovate qui in basso in descrizione e soprattutto anche 15 euro invitando 3 amici se depositate però 50 euro non vi preoccupate perché poi questi soldi potete subito riprenderli detto questo vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video spero che anche voi siate contenti per quello che sta accadendo a Shiba Inu noi ci vediamo domani con un'altra avventura ciao ciao